Grazie per aver venuto in questo luogo simbolico, ci rendiamo conto che è una conferenza stampa un po' anomala, abituati a quale al nostro punto d'incontro, stavolta invece siamo in un luogo simbolo di Carrara, nel luogo in cui è collato l'agine ormai circa tre anni fa. È un luogo simbolo perché è un luogo che rappresenta uno strappo, uno strappo tra l'amministrazione e i cittadini, uno strappo dicevamo tra l'amministrazione e i cittadini, uno strappo che intendiamo rifucire se ovviamente la cittadinanza vorrà darci la fiducia, uno strappo da rifucire attraverso quelli che sono gli elementi, potremmo dire, costitutivi del Movimento 5 Stelle che sono appunto la trasparenza e la partecipazione. non si può rifucire uno strappo di questa entità se intanto l'amministrazione non è un'amministrazione trasparente, un'amministrazione in cui i percorsi che fanno i soldi dei cittadini che seguono un percorso coerente, un percorso corretto e tracciabile. Coerente perché deve essere un percorso chiaro, un percorso che i cittadini possono seguire e un percorso imparziale. Non dimentichiamoci che oggi la città ha bisogno di imparzialità. Il cittadino non possa anche essere escluso dal partecipare perché ha idee politiche che non collimano con quelle dell'amministrazione. E poi soprattutto la partecipazione. Non dimentichiamoci che la partecipazione da parte del Movimento 5 Stelle è fondamentale. La partecipazione significa che il cittadino deve riappropriarsi di quegli spazi che i partiti li hanno tolto. Partecipazione significa poter agire direttamente su quello che fa l'amministrazione. Come si può fare? Si può fare attraverso gli strumenti di democrazia diretta. In primis i referendum. I referendum che possono essere di vario tipo. Referendumi deliberativi, referendum propositivi, a limite anche abrogativi. Cioè sono vari strumenti che permettono al cittadino di dire la propria opinione sui progetti che l'amministrazione comunale presenta. Oltre al referendum ci sono i concorsi di progetto, concorsi di idee, degli spazi in cui l'amministrazione stessa chiede ai cittadini di poter intervenire, di potersi proporre per suggerire idee all'amministrazione. Noi sappiamo di non avere la partita magica, sappiamo di non essere né onniscienti né onnipotenti e quindi chiediamo appunto ai cittadini di farsi avanti. Per i cittadini le idee ce li hanno. Il problema è che finora non sono mai state ascoltate. La nostra intenzione è quella di ascoltare i cittadini proprio per fare in modo che le idee positive che vengono dai cittadini possano essere messe in pratica. Altri strumenti di democrazia diretta sono gli strumenti attraverso i quali il cittadino può esprimere la sua iniziativa. Per esempio il bilancio partecipativo, in modo tale che il cittadino sappia appunto, come dicevo prima, dove vanno a finire i soldi con cui paga i servizi che comunichiamo. Questo è importantissimo ed è uno dei nostri punti di battaglia. Tant'è vero che abbiamo intenzione di inserire all'interno del sito del Comune proprio uno spazio apposito dedicato al bilancio partecipativo in modo tale che il cittadino possa vedere che fine fanno i suoi soldi, quanto costano i progetti, come vengono portati a mano. Questo è un punto che secondo noi è molto importante. Perché questo? Perché ci rendiamo conto che con l'alluvione del 2014 il rapporto con l'amministrazione comunale si è definitivamente rotto. Il fatto poi che il sindaco abbia detto che noi non ci sentiamo responsabili ha realizzato uno strappo ancora più grande rispetto a quello che è stato il crollo del mondo. È crollato proprio un sistema. Un sistema che noi vogliamo ricucire. Vogliamo ricucire perché non si può avere un'amministrazione scollegata dalla cittadinanza. Noi pensiamo all'occupazione della sala di rapporto del Stato. Non dimentichiamo i consigli comunali in cui in più occasione si sono rischiate, sfiorate le risse in cui le proteste sono salite veramente alle scuole. Significa che la città ormai non ne può più di una classe politica che è ora che volti pagina. Siccome questa classe politica non ci crediamo che possa voltare pagina l'unica possibilità che abbiamo è quella di cambiare pagina nel vero senso della parola cambiando quindi proprio amministrazione in tutti i settori. Noi come Movimento 5 Stelle ci sentiamo in grado di rispondere a questa chiamata dei cittadini. I nostri punti forti sono, come abbiamo già illustrato in precedenza, tre punti. La cultura, il marmo e il turismo. Attraverso questi tre punti noi siamo sicuri di poter ricostruire un tessuto economico di cui la città è estremamente bisogno. Non riteniamo belleggiario la nostra idea. Secondo noi è un'idea concreta, reale, attuale. Non dimentichiamoci che tutti i progetti di reindustrializzazione fattoriti in questi decenni in realtà non hanno fattorito grandi risultati. Abbiamo cattedrali nel deserto, abbiamo situazioni per cui oggi la città è in tutti i sensi da ricostruire, dal punto di vista industriale e dal punto di vista occupazionale. Pensiamo solo alle strutture che mancano, ai teatri che sono ancora chiusi, alla mancanza di cinema, se non parzialmente recuperati dalla riapertura di uso cinematografico dei Garibaldi. Abbiamo veramente tutto un tessuto da ricostruire, culturalmente, socialmente e fisicamente. Noi ci sentiamo pronti a questo recupero. Siamo pronti a recuperare il territorio, siamo pronti a recuperare il tessuto produttivo, siamo pronti a recuperare il tessuto sociale. Uno degli esempi che noi vogliamo fare di recupero del territorio ce l'abbiamo proprio qua. Questo fiume che è Croce d'Elizia della città può essere un piccolo volano di sviluppo. Oggi abbiamo avuto la piacevole sorpresa di vedere quanti pesci lo abitano. in questo senso il fiume Carione ancora una volta ci dimostra che è un organismo vivo. Un organismo vivo è un organismo che vuol tornare a vivere sempre di più. E uno dei progetti che abbiamo è anche quello di realizzare un piccolo parco fusiale che arrivi dalla foce del Carione all'incirca fino a 20, in modo tale da poter dare un segnale forte e chiaro alla città che anche dalle piccole cose si può ripartire e si può ricominciare. Un parco fluviale che può essere appunto una via alternativa al via alle 20 settembre, all'uso dell'automobile. Un parco fluviale in cui la gente può tornare a passeggiare, può andare in bicicletta, può fare una vita all'aria aperta di cui oggi la città ha bisogno. Bisogna riappropriarsi degli spazi che in questi anni ci sono stati negati. E questo è un altro esempio delle tante cose che si possono fare in questa città mattoriata, in questa città che ha bisogno di essere ricostruita. In questo senso l'appello che facciamo ai cararesi è quella di cambiare, dare la svolta a questa città perché ha bisogno di essere ricostruita realmente in tutti i sensi. Vi ringrazio.